sempre eternamente benedetto tu sei signore ti lo diamo ti benediciamo ti amiamo anche oggi siamo felici di fare parte con te e oggi la chiesa ci consegna dalla seconda lettera di san paolo ai corinzi il capitolo 9 versetti dal 6 al 10 fratelli tenete presente questo chi se ne mina scarsamente scarsamente raccoglierà e chi se ne mina con larghezza con larghezza raccoglierà ciascuno dia quanto ha deciso nel suo cuore non con tristezza né per forza perché dio ama con gioia ama chi dona con gioia scusate e questa parola è incredibilmente meravigliosa e tante volte ci fa comprendere quanto quello che noi riceviamo in realtà dipende da noi adesso qualcuno mi tirerà qualche pomodoro in faccia ma non importa questo è quello che dice questa parola noi a volte quando doniamo anziché decidere quanto ha deciso nel suo cuore decidiamo quanto ha deciso la nostra mente i nostri calcoli le nostre i nostri pregiudizi quanto ha deciso tutto ciò che io penso e credo rispetto all'altro tutto ciò che io penso e credo che sia giusto secondo la mia giustizia perché la mia giustizia deve sempre superare la giustizia di dio invece qui il signore ci porta in un'altra dimensione quanto ha deciso nel suo cuore e nel nostro cuore dove non ci sono tutti questi pregiudizi dove c'è tutto ciò che noi abbiamo ricevuto anche in modo gratuito a cominciare dalle piccole cose dall'amore dei nostri genitori dall'amore delle persone che vivono quotidianamente intorno a noi dove c'è tutta la ricchezza che noi abbiamo raccolto lì siamo in grado di comprendere che noi siamo una banca inesauribile di grazie e di benedizione peraltro la parola ci ricorda che l'amore di dio è stato riversato nei nostri cuori e noi sappiamo che quando dio riversa le cose lo fa assolutamente senza misura lo spirito è senza misura sempre la parola ce lo ricorda quindi nel nostro cuore noi abbiamo veramente la misura della nostra potenzialità infatti poi prosegue questa parola dice del resto dio ha poter di far abbondare in voi ogni grazia perché avendo sempre il necessario in tutto possiate compiere generosamente tutte le opere di bene sta scritto infatti allargheggiato ha dato i poveri la sua giustizia dura in eterno noi siamo in grado di compiere generosamente e quando pensiamo a donare subito di noi noi pensiamo al denaro la prima cosa che ci viene in mente il denaro e questa cosa ci mette in uno stato di rigidità di uno stato di uno stato antipatico diciamo la verità ma in realtà quando noi parliamo di donare si parla di donare quello che noi siamo che vuol dire anche la parte economica assolutamente sì è necessario che sia anche la parte economica ma noi possiamo cominciare a donare dal donare il nostro sorriso dal donare la nostra accoglienza il nostro ascolto il nostro abbraccio il nostro silenzio a volte signore non sempre una parola a volte anche il nostro silenzio può essere veramente una grazia straordinaria da donare alle persone che sono già in confusione ma il punto da dove noi dobbiamo partire da dentro di noi da dove è scritto nel nostro dna la verità quella verità che è stata che è stata determinata più di duemila anni fa sulla croce attraverso il sangue di gesù quella verità che davvero ci ci dà la possibilità ad ognuno di noi attraverso quella morte noi sappiamo che siamo chiamati alla vita e se lo siamo chiamati per noi lo siamo chiamati anche per gli altri ma la cosa straordinaria è che più io lo sono per gli altri e più dio non smette di abbondare verso di me il dare è una chiave è la chiave che ci permette di aprire questa grazia e di lasciarla scorrere è come un fiume che trova una diga se io mi irrigidisco non sono capace di dare e questo fiume trova una diga e si ferma anzi è oltretutto che ha un lago enorme io sono abituata io arrivo da posti di montagna e so che nella liga poi ci sono dei laghi dietro alle dighe dei laghi che possono anche diventare pericolosi se poi dopo sono laghi di un qualcosa che prorompe che è gorgoglioso e perché che ha bisogno assolutamente di essere rilasciato ed ecco che qui si apre anche la dinamica della gioia perché solo tutto ciò non tutto ciò che io trattengo mi da gioia non sono le cose materiali che ci danno gioia ci permettono di stare meglio assolutamente sì nessuno vuole negare negare questo ma quello che io dono viene moltiplicato all'ennesima potenza e vedere la felicità anche nella vita degli altri che viene trasportata e viene poi condivisa a sua volta è una gioia che che davvero crea una musica straordinaria che cambia la frequenza di questo mondo e la cambia attraverso l'amore straordinario di dio che del quale noi siamo portatori sani sempre in ogni tempo anche in questo tempo che ci stanno facendo venire paura anche di qualsiasi minimo contatto con le persone noi siamo sempre portatori sani di questo amore straordinario di dio che è capace davvero di di trasformare le vite attraverso tutto ciò che abbiamo da dare e non è solo il denaro ma è anche il denaro perché il denaro che ci teniamo lì in modo stretto e ce lo contiamo alla a modi paperon de paperoni alla fine non ci rende felici sappiamo davvero che invece tutto ciò che condividiamo in cristo diventa 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 alimento vi ricordate la storia dei panni dei pochi pani e pochi pesci che cosa ha trasformato quanta gente alimentato e quante ceste se ne sono portati a casa perché davvero c'è un qualcosa che resta ed è la vera eredità che noi ci portiamo quell'amore rilasciato è quella vera eredità che noi ci portiamo da qui all'eternità e quindi la nostra gioia diventa piena la nostra gioia diventa infatti se voi fate caso le persone che per paura o perché hanno sofferto così poi tendono a chiudersi alla fine quello che manca a loro è proprio la gioia quando tu ti chiudi e chiudi questa cassaforte e da questa cassaforte non è che non c'è gioia perché non ne ricevi ma non c'è gioia perché tu non ti apri perché questa gioia possa veramente manifestarsi nella tua vita o nella nostra vita e quindi come non ringraziare il signore come non benedire il signore anche per voi che vi state collegando in questo momento con me benedico la vostra vita che sia davvero un giorno di condivisione sì è vero c'è più gioia nel dare che nel ricevere però se noi non proviamo a fare questo gesto non siamo capaci ancora di di averne misura di questa gioia che viene che viene davvero a concretizzarsi che diventa un qualcosa così di materiale e così di fondante nella nostra vita che che ci fa camminare davvero a un livello più alto voglio ringraziare il signore per ogni riflessione per ogni volta che ci fa entrare nella sua parola per ogni volta che davvero ci ci permette di vincere ogni paura ed aprirci con generosità agli altri e lasciare che tutto trabucca che tutto sia un fiume che scorre come il fiume nel quale si parla del film nel libro di Ezechiere che dove passa questo fiume c'è c'è vita ci sono frutti ci sono alberi ci sono animali che possano moltiplicarsi c'è tutto ciò che ci serve questa vita che davvero deve essere di nuovo generata e oggi voglio anche dichiarare nel nome potente di Gesù per la potenza del sangue versato sulla croce davvero che se tu hai avuto qualche problema che ti sei chiuso che ecco questa paura davvero ti ha chiuso che possa che tu possa aprirti e ricevere innanzitutto l'abbraccio straordinario dell'amore di Dio che che arriva e ti raggiunge in quegli angoli bui e possa trasformare la tua vita non da domani da oggi da adesso da questo momento perché lui fa le cose immediatamente come ha creato ha detto una parola e tutto è stato creato e tutto avviene ancora ogni volta che ci sintonizziamo nella sua verità e la dichiariamo sulla nostra vita vi abbraccio vi benedico vi auguro una splendida giornata è davvero che oggi sia una giornata di donazione di gioia straordinaria che prorompe da noi e trasforma il mondo nel nome di Gesù lode e gloria a te signore benedetto tu sei ora e sempre e